Musica Pesca abusiva a Fano, la guardia costiera sequestra due tonnellate di vongole pescate da cinque pescherecci. L'operazione si è svolta oggi nelle prime ore della mattinata. Ha provato il progetto esecutivo per la riqualificazione del bastione Sangallo a Fano, elencati gli interventi tra nuovi accessi, illuminazione e maggiore capienza. In arrivo tre grandi progetti per la difesa della costa di Fano, ad annunciarli l'assessore Talamelli. Il sindaco Serfilippi conferma la volontà di verificare la quota romana sotto Piazza Costa, su cui si sta intervenendo. Il cantiere procede spedito con la totale sintonia tra amministrazione e soprintendenza. Matteo Renzi e Dell'Ischlein a Pesaro per la festa dell'unità del Partito Democratico. Oggi la conferenza stampa di presentazione. Sul palco che verrà allestito a Baia Flaminia anche l'europarlamentare Matteo Ricci. Da domani al Via la Fiera di San Bartolomeo sotto la tensostruttura di Sassonia, spazio a bambini e ragazzi con la vendita di giochi e libri. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In apertura alla cronaca, nella prima mattinata di oggi, la Guardia Costiera di Pesaro, unitamente al personale dell'ufficio circondariale marittimo di Fano, ha effettuato dei controlli ai punti di sbarco delle vongole nell'ambito del sorgitore fanese. L'attività di vigilanza pesca ha portato al sequestro di circa due tonnellate di vongole pescate oltre il limite della quota giornaliera consentita da parte di cinque pescherecci. Conseguentemente all'accertamento dell'illecito sono state combinate sanzioni amministrative per un totale di circa 20.000 euro e assegnati punti alla licenza pesca e ai comandanti delle unità sanzionate. Al termine dell'attività il prodotto ittico sequestrato è stato rigettato in mare poiché ancora vivo e al fine di tutelare la risorsa ittica. E ora torniamo a parlare dei lavori alla Bastione Sangallo a Fano perché oggi è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi. Nuovi accessi, illuminazione e maggiore capienza. Ce ne parla Filippo Pucci. Dopo un complesso lavoro è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del Bastione Sangallo a Fano. Questa mattina in occasione della conferenza stampa del sindaco insieme alla giunta l'assessorato alle opere pubbliche ha elencato tutti gli interventi che andranno a riqualificare e restaurare l'intera area. Grazie al grande lavoro di tutto l'ufficio tecnico dei lavori pubblici oggi abbiamo approvato il progetto esecutivo del Bastione Sangallo. Questo ci permetterà di partecipare al bando di gara del 26 di agosto di lunedì prossimo per avere un finanziamento per realizzare l'opera. Parliamo quindi dell'ampliamento della possibilità di usufruire di quel luogo fino a 350 persone grazie alla realizzazione di un'uscita di sicurezza che riprende un po' l'idea di quelle vecchie torri di attacco ai bastioni antichi e alla realizzazione di tutta una serie di passerelle che permetterà di mettere in comunicazione i tre livelli principali del Bastione Sangallo. Sarà anche realizzata tutta la parte scenica dell'illuminazione attraverso degli studi luminotecnici di pregio che metteranno in grande rilievo tutta l'area delle mura. Un grande lavoro di team, ci tengo a ringraziare il RUP Pamela Lisotta, l'architetto tenente, tutto l'ufficio che ha dato il massimo per arrivare a questo risultato e dobbiamo anche ringraziare veramente la velocità e la vicinanza all'amministrazione comunale che la sovrintendenza ha dimostrato, dandoci veramente dei riscontri in tempi molto brevi perché altrimenti non avremmo mai potuto arrivare all'obiettivo. Quindi un progetto da circa un milione di euro che potrebbe essere cofinanziato dalla regione per circa il 50% ci permetterà di arrivare alla riqualificazione del Bastione Sangallo. Le tempistiche sono chiaramente l'attesa del bando regionale, il 26 di ottobre sapremo se rientreremo nel bando se saremo giudicatari delle somme, da lì potremo iniziare l'iter per arrivare alla gara e entro gennaio del prossimo anno potremo pensare di aver concluso la gara, affidato i lavori. Il cantiere è chiaramente un cantiere complesso, vista tutta l'esigenza di avere la sorveglianza archeologica più tutte le lavorazioni che verranno fatte dovrebbe concludersi nel giro di un anno e mezzo. Nella giornata di ieri l'assessore regionale Aguzzi ha annunciato il consolidamento di tre scogliere a Ponte Sasso ma il comune di Fano è impegnato anche sulla difesa di altri tratti del litorale come ha evidenziato l'assessore Mauro Talamelli. Sentiamo. Assessore Talamelli, l'intervento che si fa a Ponte Sasso non è l'unico che è stato programmato ed eseguito per la protezione della costa fanese, che cosa è stato fatto e che cosa c'è ancora in ballo? Allora, per quanto riguarda Ponte Sasso, come appena ha spiegato l'ingegnere, lì il lavoro è molto complesso e si tratta di tantissima quantità di scogli e quindi è per questo che la cifra è molto alta, che con 4 milioni e 2 riusciamo a fare solo tre scogliere. Io personalmente ho suggerito ai tecnici, stiamo valutando, che abbiamo fatto un tavolo anche con il presidente degli operatori balneari, un tavolo di esecuzione perché ho tanta esperienza, ho fatto il bagnino 24 anni, quindi vivo sul mare, ho sempre vissuto sul mare e lo conosco molto bene il mare, di far sì che possiamo mettere in sicurezza anche le altre spiagge perché se si fa solo un piccolo stralcio di tre scogliere andiamo anche a distruggere a nord e a sud e io l'ho vissuta proprio sulla mia struttura anni fa. Allora ho dato dei consigli che adesso stiamo valutando insieme se si possono eseguire, sempre pur mantenendo lo stesso progetto, non alterando nulla, in modo che i lavori possano andare avanti perché se si fa un altro progetto va a finire che poi si passano avanti con i tempi, si allungano i tempi. Poi c'è anche Fano Nord, c'è anche la pista dei go-kart. Abbiamo un progetto a Fano Nord che è stato sempre finanziato di 239 mila euro, credo, appunto e ho già avuto un incontro con gli operatori e le problematiche, io sono passato da tutte le spiagge a vedere insomma come sono le realtà e quello lì arriverà dal progetto da L'Arzilla, Bagna Arzilla, sino a forse sei ore e quello è un lavoro molto complesso che ci vorrà tempo, diciamo anni, non è immediata la cosa. Per quanto riguarda invece lì al bersaglio, quelle tre scogliere, è già stata effettuata, vinta la gara, effettuato l'appalto, tutto quanto e si aspetta appunto che vengono portati gli scogli. Ho avuto un incontro proprio con l'armatore che fa tutti questi lavori, l'operatore e lì potrebbero partire in concomitanza a ottobre pur che ci siano tutte le garanzie del lavoro, diciamo, ecco, c'è un problema più burocratico di lavoro esecutivo. Oggi durante la conferenza stampa in comune il primo cittadino ha voluto rimarcare la totale sintonia con la soprintendenza per quanto riguarda i lavori in piazza Andrea Costa. Ser Filippi ha risposto anche all'appello del comitato lanciato nei giorni scorsi. Sindaco, qual è lo stato dei lavori di piazza Andrea Costa a Fano e qual è l'obiettivo del comune? Sì, piazza Andrea Costa è un cantiere che abbiamo ereditato molto problematico che sta andando avanti celermente in maniera importante. Quindi siamo sulla fase centrale, la fase 2, gli scavi stanno procedendo, quindi il cantiere è in corso. Abbiamo fatto recentemente un sopralluogo con la soprintendenza con la quale c'è un'ottima collaborazione, soprintendenza che è titolata a chiedere eventuali ulteriori scavi nell'area di cantiere e abbiamo condiviso insieme di fare uno scavo ulteriore tra la pizzeria e la pescheria è il Cardine Massimo, che è la vecchia strada romana che attraversava il Decumano, quindi la parte orizzontale o verticale in base a dove si guarda. Questo è uno scavo ulteriore che ci ha chiesto la soprintendenza e che noi faremo in grande spirito collaborativo. L'obiettivo del comune è quello di continuare con il cantiere per la quale sono stati investiti più di 380 mila euro per gli scavi fatti fino ad oggi, quindi nella fase 1 e nella fase 2. L'obiettivo nostro è terminare il cantiere quanto prima, quindi procedere con la chiusura della fase 2 e della fase centrale che vedete è oggetto di scavo, piastrellare sia la fase 1, quindi l'area già scavata che abbiamo riaperto al pubblico e la fase centrale e successivamente partire con la fase 3 dove a mio avviso e a nostro avviso perché l'assessore Ilari sta seguendo tutto il cantiere, è anche l'area dove sarà sicuramente oggetto di ritrovamenti interessanti perché è un'area che non è mai stata scavata, mentre ad esempio la fase centrale, quella che vedete oggi, è anche quella dove sono sorti in epoca medievale diverse strutture, una chiesa, l'ex chiesa di San Daniele, quindi è stato di fatto rivisto tutto quanto, tutta la parte romana è stata completamente divelta. Nella fase 3 invece, che era l'ultima fase dello scavo, è anche quella dove secondo noi ci potremo trovare e speriamo dei ritrovamenti interessanti. Anche in questo caso faremo quello che ci dirà la sovrintendenza. Invece cosa risponde all'appello lanciato nei giorni scorsi dal Comitato sulla possibilità di scavare ancora più a fondo sull'area? Sì, noi abbiamo parlato con tutti, continueremo anche a incontrare il Comitato, chi si fa portavoce di questa importante richiesta che noi condividiamo, per la quale noi abbiamo proceduto fino ad oggi con il cantiere e anche, in base a quanto detto dalla sovrintendenza, con gli ulteriori scavi aggiuntivi. Questo è quello che faremo e che continueremo a portare avanti, da parte nostra massima disponibilità al dialogo come sempre è stato. Torniamo a parlare della crisi idrica. Marta Ruggeri, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, sostiene che negli ultimi anni di governo Acquagoli non si sia fatto nulla per risolvere la situazione. Purtroppo, nonostante la pioggia di questi giorni, che ha battuto soprattutto poco nell'entroterra e abbastanza in maniera fitta sulla costa, non è servita a farci uscire da questa crisi idrica che ci attanaglia ormai da diversi anni, perché da quando sono entrate in Consiglio regionale, puntualmente, ciclicamente si parla di questo tema e devo dire anche che sono stati approvati all'unanimità degli atti che ad oggi sono stati disattesi, come per esempio quelli che richiedevano la pulizia degli invasi, di valutare per esempio la rete dei laghi. Adesso è una proposta dell'assessore all'ambiente, quello del potabilizzatore dell'acqua della diga di mercatale, c'è anche la questione del grande invaso su cui noi non siamo tanto d'accordo perché entrerebbe a risolvere la situazione tra 10-15 anni in maniera molto impattante nel nostro territorio che già è fragile e quindi vorremmo valutare altre questioni che siano più vicine nel tempo nel realizzarsi e soprattutto meno impattanti dal punto di vista ambientale. Detto questo, mi pare di poter dire, visto che ad oggi sono passati 4 anni e nulla è stato fatto, che rischiamo che finisca la legislatura a Cuaroli e non si sia affrontato minimamente il problema che invece è un problema estremamente importante e ha ricadute fondamentali sulla vita di tutti noi e non basta certamente chiedere che i sindaci facciano delle ordinanze per invitare i cittadini a usare con parsimonia questa preziosissima risorsa e purtroppo è avvenuto quello che era avvenuto anche prima ma in maniera molto più massiccia cioè il ricorso alle acque profonde prendo i pozzi del Burano e i pozzi di Sant'Anna che dovrebbero essere utilizzati solamente in situazioni di forte emergenza. E ora passiamo alle segnalazioni e vediamo queste foto scattate nel campetto da basket del quartiere di Sant'Orso a Fano. Il telespettatore ci mostra una cabina elettrica dell'Asset di Velta, probabilmente da alcuni vandali che frequentano la zona. È una situazione pericolosa, commenta il segnalatore, perché dalla cabina fuoriescono cavi dell'elettricità che alimentano l'impianto di illuminazione del campetto. A Pesaro le acque alla foce del Genica tornano pulite. A meno di 24 ore dall'ordinanza che vietava la bagnazione nel tratto di 30 metri nel lato sud della foce del torrente è stata firmata la revoca a seguito di rilevamenti compiuti oggi da ARPAM. Quindi la bagnazione è regolarmente consentita lungo tutto il litorale di Ponente, Levante e Sottomonte. Il provvedimento era stato avviato ieri pomeriggio dopo che i controlli dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle marche avevano evidenziato un superamento del valore limite di parametri riconducibile al maltempo che ha colpito la città di Pesaro nei giorni scorsi. Matteo Renzi e Elislein saranno a Pesaro in occasione della festa dell'unità del Partito Democratico. Oggi si è svolta una conferenza stampa per presentare il programma dell'evento. Vediamo. Unità e campo largo, le due parole chiave per la festa dell'unità 2024 organizzata dal Partito Democratico Marche e in programma dal 28 agosto all'1 settembre a Baia Flaminia a Pesaro. Una festa regionale nella città pesarese. L'idea nasce dall'esito dell'ultimo appuntamento elettorale con la vittoria di Andrei Biancani. Una fase di riscaldamento in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali con il Partito Democratico che punta a riconquistare la regione Marche. Questo sarà un evento di punta con cui simbolicamente ci prepariamo ad affrontare la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali ma soprattutto in cui vogliamo dimostrare che siamo già al lavoro per l'alternativa. Pesaro per alcuni giorni sarà al centro del dibattito politico. Tanti gli appuntamenti in programma. Il 28 agosto andrà in scena il faccia a faccia tra Matteo Ricci e Matteo Renzi con l'idea di ribadire il riavvicinamento tra l'ex segretario del PD e il suo ex partito. Su questo confronto nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche. Dialogare con Matteo Renzi io penso che sia un fattore positivo. Ovviamente bisognerà stanarlo da quel modo che ha di mettere in cattiva luce la persona debole di turno. Per cui io credo che non solo Matteo Renzi ma tante figure del moderatismo politico italiano abbiano capacità di dialogare con noi, noi dialogare con loro e da lì ripartire. A proposito delle critiche alla presenza di Matteo Renzi mi piace dire che le coalizioni non bisogna darle tutte per scontate, bisogna costruirle ogni giorno sui temi, sulla politica, sulle risposte. Per cui non va data per scontato quella che attualmente può essere una base di coalizione rispetto a quello che potrebbe diventare perché potrebbe essere arricchente, dialogante ma ovviamente ognuno ci deve mettere la propria capacità politica. Giovedì sul palco di Baia Flaminia l'onorevole Stefano Bonaccini, nei giorni a seguire raggiungerà a Pesaro anche l'eurodeputata Camilla Laurenti, infine domenica Massimo D'Alema e la segretaria nazionale del PD Elish Line alle 21.15. Nel programma della festa dell'unità momenti di confronto sull'intelligenza artificiale ma anche su sex work e digital work. Domani parte la fiera di San Bartolomeo, in concomitanza partirà anche la fiera franca dei bambini, uno spazio dedicato ai ragazzi dove potranno vendere giochi, libri e tanto altro. Dal 24 al 26 agosto a Fano torna la fiera di San Bartolomeo, presenti oltre 170 bancarelle aperte dalle 8.30 del mattino fino alla mezzanotte. Ma anche quest'anno, Vice Sindaco Manocchi, avete voluto dare spazio ai ragazzi con la fiera franca. Che cos'è e dove si svolge? Allora, anche quest'anno si viene riproposta la fiera franca dei bambini che si terrà sotto la tensostruttura in Sassonia e è stata debitamente oggi anche rinfrescata e ripulita per l'occasione. La durata è per tutti i tre giorni della fiera di San Bartolomeo, dalle 14.30 alle 20, quindi tutti i giorni, con la possibilità per le bambine e i bambini dai 3 ai 16 anni di partecipare con lo scambio, il baratto di giochi, fumetti, anche piccole realizzazioni fatti da loro stessi e con, diciamo, un massimo circa di 30 postazioni per un 3 metri circa per ogni postazione. I minori ovviamente dovranno essere accompagnati dai propri genitori o comunque da un adulto che si occuperà anche della supervisione e ovviamente quindi in questo senso è autogestita. Questo evento, questo momento che comunque è piacevole, non solo è un momento aggregativo ma proprio un momento di scambio per tanti giochi che magari i bambini stessi hanno a casa, che hanno quindi il desiderio di fare questo tipo di operazione, ci ha dato lo spunto di poter immaginare, quindi ancora è da strutturare, da programmare per immaginare una fiera dedicata soltanto espressamente ai bambini. Quindi per una prossima stagione immaginare davvero una giornata solo per loro dedicata a questo tipo di attività coinvolgendo anche magari associazioni ad essi riferibili per questo bellissimo momento. A Treponti di Fano il 30 agosto si svolgerà il convegno annuale di Federcaccia. Scopriamo nella prossima intervista gli ospiti e i temi che verranno trattati. Venerdì 30 agosto si terrà il convegno annuale di Federcaccia alla cooperativa Treponti. Quali saranno i temi che verranno trattati e chi saranno gli ospiti? Sono tutti ospiti, quest'anno una presenza importante. Ci sarà il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ci saranno gli assessori, l'assessore alla caccia Antonini, l'assessore Stefano Guzzi e l'assessore Francesco Baldelli, oltre ai deputati Mirko Carloni e anche al deputato Antonio Baldelli. Ci sarà anche la presenza del Presidente nazionale di Federcaccia Massimo Bucconi. Quindi ospiti molto importanti che relazioneremo sulle attività a livello regionale. Calendario venatorio, si ritorna ad un calendario migliore d'Italia con pre-aperture che nessuno ha in Italia e anche chiusure al 31 di gennaio. Ve l'ha illustrata anche la legge regionale nuova, le modifiche alla legge regionale. Il Presidente nazionale Massimo Bucconi illustrerà le tematiche nazionali, fra cui le modifiche alla 157 approvate nel decreto agricoltura, le modifiche che sono in Commissione Ambiente della Camera e anche tutte le problematiche inerenti ai danni in agricoltura e alla peste suina africana che è molto impattante per il mondo agricolo e anche per il mondo della zootecnia ma soprattutto anche per il mondo venatorio che si chiede uno sforzo al mondo dei cacciatori. Quindi un ritrovo importante, un invito importante ad essere presenti ai cacciatori marchigiani di vivere una serata in tranquillità, in allegria anche per avere informazioni, notizie. Siete tutti invitati a partecipare alle 19.30 alla cooperativa Tre Ponti il 30 di agosto. Iniziamo con la cena offerta da Federcace e della cooperativa Tre Ponti. Poi alle 20.45 iniziamo con un dibattito. Una bella serata per stare tutti assieme. Venite cacciatori alla cooperativa Tre Ponti a fare. Dal 26 agosto al 1 settembre il comune di Montelabate, il nuovo protagonista di 50x50 capitali al quadrato, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede 50 comuni della provincia di Pesaro e Urbino a turno capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Il programma dal titolo Le Buone Notti della Cultura offre una ricca proposta tra arte, storia, musica, cinema e letture per i più piccoli. Naturalmente luci accese anche su un'eccellenza come la pesca, frutto antico e rinomato di questo territorio. Il primo appuntamento della settimana si svolgerà lunedì 26 agosto allo Spazio Nobili con una mostra d'arte collettiva di fotografie, sculture e dipinti a cura di Leonardo Nobili. Termina qui il telegiornale dopo di noi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.